Non vogliamo la certificazione esterna, sarebbe già tanto se i sindacati pubblicassero i propri bilanci. La senatrice della Lega Nord, Silvana Comaroli, spiega la sua proposta di legge enorme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni, nonché in materia di trattenute sindacali, annunciata nell'aula del Senato. In sostanza si prevede una cosa semplicissima, sottolinea la senatrice milanese, una ovvietà, la pubblicazione dei bilanci da parte di tutti i sindacati. Una cosa semplicissima è che loro pubblicano il loro bilancio, una cosa che ovviamente a me e magari anche ai telespettatori appare scontata, dove deve vigere la trasparenza, non si sa perché i sindacati invece non hanno questo obbligo di trasparenza e di pubblicazione dei loro bilanci. Questa qui è una nostra battaglia storica della Lega. Noi abbiamo sempre voluto che venissero pubblicati questi bilanci, ma chissà perché, probabilmente il momento e quant'altro, i sindacati avevano sempre questo favoritismo. Faccio notare che i partiti politici invece è da diversi anni che sono obbligati a presentare e pubblicare il loro bilancio. Noi volevamo semplicemente questo, essere in questo momento particolare, che anche i sindacati assolvessero ad un obbligo normalissimo e rispondessero a un diritto dei cittadini, sapere. In quali modalità? Ma una cosa semplicissima, devono semplicemente pubblicarlo su testate nazionali, affinché chi vuole vedere, vede, chi non vuole vedere, non vede. Ma è una cosa giusta, a mio parere e soprattutto a parere della Lega Nord, perché, ripeto, è da diversi anni che noi stiamo portando avanti questa battaglia e speriamo, speriamo che finalmente riusciamo a vincerla. Grazie. Grazie.